Tutti i corpi che riusciamo a percepire con i sensi sono costituiti da materia. Anche l'aria che non puoi né vedere né toccare è materia. La materia è tutto ciò che occupa uno spazio e ha una propria massa che equivale al suo peso. La materia è composta da tante minuscole particelle dette molecole che sono staccate tra di loro ma vicinissime perché tenute insieme da forze di diversa intensità. La materia può presentarsi in tre modi diversi chiamati stati a seconda di come le molecole risultano legate tra loro. Ogni stato è poi caratterizzato da specifiche proprietà. Lo stato solido. Le molecole sono molto unite tra loro e non possono allontanarsi dalla posizione iniziale. La materia solida ha una forma precisa che cambia solo se si applica una forza esterna. Lo stato liquido. Le molecole sono tenute insieme da una forza di attrazione che non le fa allontanare ma solo scivolare le une sulle altre. La materia liquida prende la forma del contenitore in cui si trova. Se voi versate l'acqua in un bicchiere prende la forma del bicchiere. Lo stato gassoso. Le molecole sono disposte in modo disordinato potendo muoversi liberamente. La materia gassosa non ha forma e si espande in tutto lo spazio che ha a disposizione. Grazie.